allora è arrivato il pranzo effettivamente negli ultimi giorni il pranzo e la cena sono un po più si sta delbegnando meno abbiamo la solita porzione di riso che saranno secondo me un 50 grammi a crudo poi abbiamo la stessa cosa della colazione quindi hanno riciclato questo questa verdurina che non so che cos'è questo vitello qua abbiamo tofu e questa verdura qua abbiamo bai zai da bai zai che è una verdura che c'è solamente in asia comunque io in italia non l'ho mai vista e qui abbiamo le famosissime shizu tov che sono in pratica le teste di leone sono delle polpette simili a quelle che potremmo fare in italia che sono veramente buone veramente veramente buone ho finito le prime due ore di lezione ma lo capite che è da 12 giorni che non esco da quella porta cioè ragazzi ne hanno porto il cibo ora alle 6 meno 20 cioè questo è proprio illegal no comunque niente oggi proprio non ci siamo ma che è sta cosa la stessa carne a due giorni e questo cos'è visto che sono in pausa lezione finirò alle 8 e il mio cibo ormai è più che freddo ora ordiniamo il suan la feng e nhi hao buco isse io mi ho suan la feng e koi che vuoi scusate ho staccato perché dovevo pagare con wechat questa è la pecca di non avere una una gopro una telecamera solo per fare video nel mentre qua il cibo è freddo tra l'altro ci hanno comunicato che domani mattina dobbiamo fare il serologico domani è il tredicesimo giorno mentre il pomeriggio dobbiamo fare il tampone pcr quello bruttissimo quindi si sta avvicinando finalmente la data del rilascio è il tredicesimo giorno è il tredicesimo giorno è il tredicesimo giorno è il tredicesimo giorno è il tredicesimo giorno